Musica Weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e oggi ragazzi abbiamo un sacco di novità, un sacco di leaks riguardanti gli ultimissimi giorni della season numero 6 di Fortnite Ragazzi ma ci pensate, manca poco più di una settimana e saremo nella nuova stagione ragazzi La season numero 7 e ne vedremo anche in questa season assolutamente delle belle Ragazzi mi sembra che questa stagione sia assolutamente volata È stata meravigliosa, mi ha divertito tantissimo, eventi spettacolari, skin bellissime, post battaglia carino Niente di esagerato ma sicuramente si guadagna almeno per quello che mi riguarda il primo posto nelle season che ho giocato Voglio quindi subito ragazzi farvi la domanda del video come faccio ogni volta Voglio leggere i vostri commenti proprio qui sotto Ragazzi qual è stata la vostra stagione preferita Ditemelo, ditemelo qua nei commenti e soprattutto non vi dimenticate di lasciare un bel pollicione in su Se vi piacciono i miei video non dimenticatevi di iscrivervi al canale E di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le news e su tutte le curiosità di Fortnite Oggi quindi ragazzi parliamo subito di un bel po' di roba che vedremo in questi prossimi giorni di Fortnite E partiamo subito dalle nuove skin ragazzi Guardate qua che cosa è stato trovato Questa ragazzi è una skin che si chiama Long Shot Non sappiamo bene quale sia il suo ruolo Non sappiamo se arriverà in questi ultimi giorni Quindi se sia l'ultima skin della season 7 Della season 6 oppure arriverà con la season 7 Secondo me sarà invece l'ultima di questa season Ed è accompagnata dalla controparte femminile che si chiama Hillside Invece Carine, sembrano degli agenti speciali in poche parole non Niente di esagerato Ovviamente corredate entrambe dei loro rispettivi backpack Questo è quello blu di lei che si chiama Zraig Sling Così E l'altro si chiama invece Scope Satchel Come vedete ragazzi sono sicuramente delle forze speciali Perché questo monta dietro un mirino Questo deve essere assolutamente un 12x E dei bossoli pesanti Quindi sicuramente sono assolutamente umane come skin E faranno parte Boh Di un esercito segreto Non lo so ragazzi Staremo a vedere anche perché se vi ricordate Ci sono altre due skin che vi avevo mostrato Qualche giorno fa La Instinct e la Reflex Che probabilmente fanno anch'esse parte Di un nuovo esercito segreto Quindi si potrebbe riallacciare questo discorso Alle due corporazioni Che vi avevo fatto vedere Un paio di settimane fa Relative ovviamente a Dime Ma avremo modo di parlarne ancora E ragazzi È stato scoperto anche questo Che cacchio di piccone è questo Questa è una lampada Che è un piccone C'ha pure il nome Si chiama lamp Semplicemente Allora mi rifiuto di pensare Che queste skin Abbiano come piccone una lampada Perché non ha assolutamente senso Però ragazzi È molto particolare da vedere Perché Boh Dici che cacchio c'entra Staremo a vedere Staremo a vedere E staremo a vedere A chi associarla Soprattutto perché Non ho in mente skin A cui poter associare Una lampada del genere Ma andiamo avanti ragazzi Perché ci sono anche le nuove Quattro emote Questo è lo score card Quindi come vedete Tiene in mano Probabilmente un tabellone luminoso Ne abbiamo un'altra Che è il time out Entrambe quelle che vi ho fatto vedere Sono non comuni Quindi Costeranno 800 Se non ricordo male O 400 O 500 Non mi ricordo Abbiamo il mimo Che invece è rara Come emote E l'ultima Che è la mia preferita Che è il tizio Che suona il sax Che si chiama Con precisione Phone Eat Ian Ed è invece Un'emote Epica ragazzi Quindi Molto interessante Anche questa Io le ho viste Già in movimento Non voglio farvele vedere Per evitare problemi Di copyright Sapete un po' Gli strike Che possono arrivare Quindi basta solo che Le cercate In internet E le troverete Con un bel po' Di anticipo Ma andiamo avanti ragazzi E parliamo Appunto Addentriamoci Un po' di più In quello Che scopriremo In quello che è stato scoperto E ragazzi La prima cosa È il nuovo Come si chiama La nuova schermata Di caricamento La loading screen Della settimana Numero 10 Quindi la settimana Che arriverà Fra poche ore E che quindi Una volta completata Dirà davvero Arrivederci Alla season 6 Questa immagine È molto interessante Come vedete C'è il DJ Lama Che fa ballare Tutti Tutte le skin Tutti i personaggi Che abbiamo visto In questa season E ci sono però ragazzi In questa immagine Tre segreti Interessantissimi Il primo segreto Ragazzi È proprio La skin Che era stata Rilasciata Un po' Di giorni fa Un po' Da parecchi Settimane fa Se devo dirvi La verità Che è praticamente La versione Femminile Del Dur Burger E non era più Era stata inserita Nei file di gioco Non era mai stata Rilasciata Adesso invece Viene mostrata Nella schermata Di caricamento Ed infatti È questa qua Non si capisce mai Perché si è tagliata male Ma comunque È questa in poche parole Che è molto molto carina Se devo essere sincero Vedremo ragazzi Se ci verrà data Magari Magari è una skin Che ci verrà data Nella season 7 Non lo so ragazzi O magari arriverà nello shop Prima della chiusura Di questa season Staremo comunque A vedere Ma c'è un'altra Di qua è Un'altra cosa interessante Di questo loading screen Ragazzi Che come state vedendo È ovviamente L'immancabile Haim ragazzi Come abbiamo già visto Purtroppo Nella season 5 O 4 Comunque dove c'era No Nella season 5 Dove c'era lo spaccatutto Ragazzi Anche per questo caso La skin Che ci viene regalata Con il completamento Di 7 Settimane Di gioco Non ha ancora avuto Un impatto Sulla nostra Season Quindi vedremo ragazzi Quale sarà il ruolo Di Haim Perché è stato creato E se davvero Ricoprirà appunto Una parte fondamentale Nella season Numero 7 C'è da dire Che sono già Due o tre Schermate di caricamento Che ce lo troviamo Lì in mezzo Di prepotenza E quindi Staremo a vedere L'ultima ragazzi L'ultimo segreto Eccolo lì Sono le coordinate Dello standard Perché potrebbe La settimana scorsa Ci hanno dato La stella segreta Quindi questa SIS Questa settimana Potrebbe chiudersi Con uno standardo segreto Che sono Se non ricordo male Q8 H8 G9 H9 Credo Adesso non le vedo in grande Le vedo in piccolino Comunque poi le vedrete anche voi Insomma quelle sono le coordinate Del nuovo standardo segreto O della stella segreta Che troveremo Con il completamento Dell'ultima settimana Di Fortnite Ma andando avanti ragazzi Le news e i leaks Non sono finiti Si parla ragazzi Ovviamente Ancora Della cosa Che sta sulla bocca Di tutti In questi giorni Che è la tormenta Di neve Allora ragazzi Voglio subito Correggervi Perché non sarà Una tempesta di neve Ma sarà Una tempesta Di ghiaccio Molto importante Anche questo particolare Questo ragazzi È stato trovato Nei file di gioco E Praticamente Vi spiego Non guardate Quello che sta Ne senso Non immaginate Che è un quadrato Con delle specie di uova Strapazzate sopra Sono le varie Forme Che prende La tempesta di neve Man mano Passano i giorni Quindi Piccola Grande Ancora più grande Ancora più grande In poche parole Quella che vedete Non questa che sto indicando Ma quella più di là È la forma finale E la più grande Ovviamente Quindi questa tempesta Si sta davvero avvicinando Vedremo Probabilmente La vedremo nel trailer Della season 7 Molto curioso Anche da vedere questo Ma non è finito Perché ragazzi Vi faccio vedere Anche questa Che è una cosa Interessantissima Che è sempre Dentro i file Di gioco Ed è La texture Delle nuvole Che si avvicinano Quindi ragazzi È molto particolare Da vedere Molto particolare Anche da spiegare Ma come vedete Diventeranno poi Sempre più grandi Come avevo già anticipato Poco fa Queste nuvole E per chiudere Ragazzi Prima di salutarci Sbadan Sbadan Ragazzi Sbadan Sbadan Ragazzi Sbadan Questo è un nuovo muro Di un castello Che è stato trovato E che potrebbe essere Il castello di ghiaccio Che si era visto Nel rift permanente Quello nascosto Nel bunker Di bosco Blatterante Sono state trovate Questo muro E questa texture Che è La roccia Che formerà Il castello E come vedete Non è roccia Ma è ghiaccio Ragazzi Quindi Questo ci fa pensare Che sia Il vero Castello Di ghiaccio Per adesso ragazzi È tutto Spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Vi aspetto in tantissimi Nella famiglia Iscrivetevi al canale Noi Ci vediamo in live Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti